Ciao, questa è Arte Green e io sono Lisha, io sono Iolana, il nostro motto è essere green con creatività. Infatti, sempre usiamo il materiale riciclato. Oggi vi proponiamo dei lavoretti per la festa della terra, oppure anche per la festa degli alberi, ma se no anche per qualsiasi laboratorio legato alla foresta, alla natura. Due alberi fatti con il materiale di riciclo, adatto per i bambini e soprattutto insieme, io raccomando sempre, insieme ai genitori o comunque agli adulti. Prima di andare a vedere il video, iscrivetevi al nostro canale YouTube, andate a seguirci su Instagram e Facebook e visitate il nostro sito web dove troverete tante idee per essere green, di educazione ambientale anche, vedrete i nostri libri ad esempio. E ora andiamo a vedere come si fa questo laboratorio. Materiali occorrenti per fare questo laboratorio, dei cartoni, cartoncini riciclati, per tagliare una sagoma che può essere di un albero latifoglie oppure di uno di conifere, vi mettiamo il link sotto per scaricare queste forme, i colori che volete utilizzare, verde, giallo, marrone se volete colorare il tronco e poi vi dovete tagliare le forme anche dai cartoncini e colorarle oppure se le trovate del colore giusto lasciatele così. Le forbici, la colla e un rotolo di carta igienica. Una volta che avete deciso cosa raffigurare, ad esempio noi abbiamo fatto delle piccole meline rosse ma anche di altri colori, abbiamo tagliato anche le foglioline che o potete farle verdi però di un verde diverso o se no del colore che più vi piace. E quindi una volta deciso li attacchiamo. Una volta che avete finito, vedete come l'abbiamo attaccato, però voi potete farlo con tutti i colori che preferite e con i frutti oppure inventarvi il vostro albero, andremo ad attaccarlo al tronco. Dobbiamo fare due taglietti, vedete, così e uno dalla parte opposta, vedete, in questo modo e andremo a inserirci l'albero, la chioma. Vedete come è avvenuto, così può stare in piedi, in questo modo. Vedete, potete fare anche la stessa cosa con le conifere, facendo delle piccole pigne sempre col cartone. Molto semplice, vero? Poi li potete tenere in piedi in questo modo. Un bel lauretto per la festa degli alberi o della terra. Avete visto che erano molto semplici, vi mettiamo il link sotto per scaricare le forme se vi servono, ma può essere che tanti bambini non ne hanno nemmeno bisogno. Allora, se vi piacciono i nostri video, vi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete mi piace, attivate le notifiche così sarete sempre aggiornati. Sì, nella campanellina, però, se cliccare. E poi seguiteci su Instagram, Facebook e visitateci, raccomandiamo, il nostro sito web dove troverete tante idee green. Allora, al prossimo video. Ciao!